Un saluto a tutti i lettori di Hardware Upgrade, grazie alla disponibilità di Samsung siamo qui oggi a pochi istanti dall'annuncio ufficiale di Galaxy Note 7 proprio in compagnia del nuovo top di gamma per quanto riguarda la categoria phablet un dispositivo che discende direttamente dal primo Galaxy Note che appunto è il dispositivo che ha definito per primo la categoria un prodotto veramente interessante e proprio per questo motivo andiamo a mostrarvelo ora insieme Eccoci qui quindi con il nuovo Galaxy Note 7 di Samsung un dispositivo dalle dimensioni sicuramente importanti dovuti al display da 5,7 pollici parliamo di 153,5 mm per quanto riguarda l'altezza, 76,3 per quanto riguarda la larghezza e 7,9 mm per quanto riguarda lo spessore i display abbiamo già detto è da 5,7 pollici a matrice OLED nonostante ciò i colori non sono eccessivamente saturi la definizione è Quad HD quindi 2560x1440 pixel e la densità è di 518 dpi nella parte superiore abbiamo la capsula per le chiamate, la fotocamera frontale da 5 megapixel apertura focale f1 e 7 il led RGB, il sensore per la luminosità e il sensore per lo scan dell'iride vera novità in merito alla sezione sicurezza per quanto riguarda questo Galaxy Note 7 nella parte bassa abbiamo il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali inserito all'interno del tasto fisico come ormai tradizione di Samsung il pulsante a sfioramento per tornare indietro e quello per l'apertura del multitasking nella parte inferiore troviamo una USB Type-C per la prima volta su un dispositivo Samsung della linea smartphone e la feritoia all'interno della quale troviamo lo speaker, l'altoparlante di sistema il jack da 3,5 mm, il microfono per le chiamate e la S-Pen elemento distintivo della linea Note di Samsung sul lato destra del terminale abbiamo il tasto di accensione mentre su quello sinistro i due tasti per la regolazione del volume nella parte superiore troviamo invece il carrellino per l'inserimento della SIM in formato nano e della microSD per espandere la memoria microSD fino a 256 GB nella parte posteriore abbiamo poi la fotocamera si tratta dello stesso modulo di Galaxy S7 e S7 Edge ovvero un modulo dotato di risoluzione a 12 megapixel e di apertura focale f1 e 7 oltre che di ottica stabilizzata ovviamente squadra che vince non si cambia ottime erano le performance di questo modulo su Galaxy S7 e S7 Edge e confidiamo che ottime saranno anche su questo Note 7 qui a fianco abbiamo poi il flash e il sensore per il riconoscimento del battito cardiaco come dicevamo prima l'elemento distintivo di questo dispositivo è sicuramente la S Pen che si estrae cliccandola dalla parte bassa del dispositivo automaticamente si aprono i comandi Air Command e subito possiamo vedere che ci sono alcune novità per quanto riguarda proprio la gestione e l'utilizzo di questa S Pen è cambiata l'applicazione Note che ora include qualsiasi tipo di note dalle note testuali ai disegni insomma tutto quello che possiamo creare con questa nuova S Pen selezione intelligente invece è una funzione che avevamo già a bordo dei vecchi Note come anche la scrittura a schermo abbiamo invece poi la funzione traduzione attivandola possiamo selezionare ad esempio all'interno di una pagina web un testo in una lingua straniera e automaticamente questo verrà tradotto in italiano possiamo poi tornare nuovamente ai nostri comandi abbiamo anche la nuova funzione ingrandisce attraverso cui possiamo appunto ingrandire delle porzioni di schermo ingrandimenti che possono essere effettuati in percentuali differenti selezionabili da questo menu a tendina per concludere l'ultima funzione è la funzione panoramica che ci permette di avere una proprio panoramica di tutte le applicazioni che stiamo utilizzando e di ridurle a icona in modo da poter passare più velocemente da una all'altra altra novità per quanto riguarda sia la nuova S Pen che il Galaxy Note 7 è la certificazione IP68 che ne attesta l'impermeabilità e la resistenza alle infiltrazioni di polvere quindi potremo scrivere e prendere note anche sott'acqua una funzione sicuramente molto utile che ci sarà utile soprattutto quest'estate in spiaggia se ci vengono dati dei numeri di telefono mentre siamo in acqua da qualche bella ragazza quindi dispositivo che risponde a questa certificazione ricordiamo che si possono prendere note anche a schermo spento è un prodotto che sarà disponibile a partire dal 2 di settembre ad un prezzo di 879 euro il prodotto è prenotabile a partire dal 16 di agosto e per tutti coloro che prenotano questo nuovo Galaxy Note 7 verrà dato in regalo il nuovo visore Gear VR appositamente studiato e ridisegnato per questo Galaxy Note 7 se il video vi è piaciuto non mancate di lasciare un like di iscrivervi al nostro canale YouTube e di continuare a seguirci sulle pagine di Hardware Upgrade Grazie a tutti!